perdita dalla grondaia riparala velocemente con bostiche gomma liquida di cosa hai bisogno bostiche gomma liquida bostiche gomma liquida banda rinforzante pennello spugna abrasiva bastoncino di legno devi riparare una grondaia che perde pulisci bene la grondaia e assicurati che sia asciutta carteggia il giunto che perde e assicurati che la zona da impermeabilizzare sia pulita asciutta priva di polvere e grasso assicurati che la temperatura sia almeno di 5 gradi centigradi non applicare se c'è la possibilità di pioggia nelle 12 ore successive definisci la sezione da impermeabilizzare disponendo una striscia di bostiche gomma liquida banda rinforzante sopra il giunto che perde aggiungi qualche centimetro di bostiche gomma liquida banda rinforzante e poi taglia la striscia mescola bostiche gomma liquida fino ad ottenere una colorazione omogenea adesso applica un primo strato di bostiche gomma liquida disponi la striscia di bostiche gomma liquida banda rinforzante e premi bene fino a fissarla l'uso di bostiche gomma liquida banda rinforzante permette la perfetta sigillatura di crepe spazi e fessure garantendo lo spessore ottimale applica un secondo strato fino a che il prodotto si presenti lucido lo spessore ottimale di bostiche gomma liquida di almeno due millimetri quindi ripeti il processo per tutti i giunti della grondaia bostiche gomma liquida forma una pelle consistente fuori polvere in circa tre ore e polimerizza completamente in circa 48 ore bostiche gomma liquida facile da applicare permanentemente elastico per interni ed esterni rispettoso dell'ambiente